Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, parole al vento, parole al vento, parole al vento, la voce, le urla, le discussioni, sostenere le nostre ragioni come da realtà dei fatti non servono a niente, niente, non servono a niente. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e naturalmente la campanella per essere raggiunte e raggiunte dal nuovo contenuto. Allora il giudice sportivo ha deciso tre giornate a quadrado, una Andanovic, una Lukaku e chiusa la curva della Juventus in campionato, il settore denominato Tribuna Sud, casualmente per la prossima partita di campionato e non di Coppa Italia che è Juve-Napoli. Allora, se sono pazzo me lo dite tutti, scrivetemelo nei commenti, no problema, sono pazzo, mi faccio internare? No, perché questa è veramente, no, non lo dico più perché poi ogni volta ci sorprendono con effetti speciali, ma questa è clamorosa perché è su un fatto serio e importante come quello che è successo nel post partita del derby d'Italia. Allora, io sono allo stadio e non li sento i cori razzisti. Lukaku dice tutta la partita, è entrato in campo 12 minuti, ci sono state tre azioni in cui gli è arrivata la palla. Quando ha fatto il fallaccio su gatti si è sentito scemo scemo e le urla dello stadio, quindi non sono cori razzisti, e poi in prossimità del rigore e dopo il rigore c'è il video della pirla che verrà preso che dice scimmia e altri 4 o 5 che fanno bu. Il resto sono fischi, u, che non è bu, è un'altra cosa, u è u, bu 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 bu, questo è il coro razzista, ma u è un'altra roba. Ma detto questo, detto questo, detto questo, quindi io non li sento questi cori che secondo i procuratori devono far chiudere il nostro settore. Chi è in curva che ho sentito non li sente, chi è negli altri settori non li sente. A bordo campo gli inviati dalla televisione che trasmette la partita non li sentono, i cori razzisti non li sentono, non fanno il pre-partita, il post partita non è sui cori razzisti, ma è su Lukaku, Aris, eccetera, non li sentono. Lo stesso allenatore Simone Inzaghi non li sente perché in conferenza stampa non ne parla. La Juve Neme non li sente nessuno, l'arbitro e i suoi collaboratori che sono in campo non li sentono, altrimenti avrebbero dovuto da protocollo interrompere la partita e far dire allo speaker dello stadio quello che sappiamo da protocollo e soprattutto nelle decisioni che ha preso è evidente che non sente niente, quindi nessuno di noi allo stadio dei protocolli si sente niente. I tre procuratori federali che hanno evidentemente un orecchio diverso dal nostro, non è che sentono qualche coro razzista. 2.500 sui 5.000, 2.500, ma sai cosa sono i cori di 2.500 persone? Quello, altro che coro, sono i rullati di uno stadio. Quindi, tutti noi siamo pazzi e loro hanno sentito questa cosa qua. Squalificano la curva, casualmente la prossima partita contro il Napoli, incredibile Amici, mentre in altri stadi e in altre curve c'è la sospensiva. Cioè la Juventus fa i fatti, collabora, va a prendere chi è e gli dà da regolamento interno l'esclusione allo stadio, quindi fa dei fatti e invece che premiare la Juventus che fa dei fatti per prendere le persone che hanno eventualmente commesso azione razzista nei confronti di un giocatore avversario, viene punita perché gli squalificano una curva dove gli procuratori federali sentono 2.500, guarda che 2.500 sono tanti, tu pensi, io non ho sentito quasi neanche uno, qualcuno ne ha sentiti due, loro 2.500. E quindi la nostra curva, il settore della nostra curva, che era mai tra l'altro, forse non se ne sono accorti ma non è più come le altre curve, quindi non è quella roba lì, viene sospesa nella partita contro il Napoli. Roma-Juventus, Cori supe sotto e Kostic, la procura non sente. Spezia-Juventus, i Cori nei confronti di Kostic razzisti, nessun provvedimento del giudice sportivo. Juve-Napoli del 2022, Cori razzisti a Ken, nessun provvedimento del giudice sportivo. Inter-Juve, Cori dei tifosi nell'Azzurri contro Matuidi, niente, non interessa. Juventus-Roma, anche lì Cori razzisti contro Moise Ken dal settore, ma non interessano. Al-Franchi, Vlaovic, Cori razzisti dei tifosi della Fiorentina nei confronti di Vlaovic, non interessa a nessuno. Rulati razzisti a Cagliari, contro Ken, anche lì nessuna sanzione. Quindi, in tutti gli altri stadi italiani e nei confronti dei giocatori della Juve, presenti e passati, si può ululare e urlare da qualsiasi cosa che non interessa, non ci sono provvedimenti. L'altra sera, in una partita in cui non è successo niente fino alla fine, si è accesa per il fallaccio di Lukaku, che non è stato espulso su Gatti che poteva rompergli la caviglia, ci sono stati coscemo-scemo, di tutto e di più. Ma i Cori razzisti sono un'altra cosa, i procuratori federali sono riusciti a far diventare i Cori di 2500 persone, Cori che nessuno di noi allo stadio ha sentito, ma nemmeno i protagonisti. Molto bene. Poi siamo anche alla beffa sulla rissa. Anche lì le immagini non servono, perché tanto è inutile andare a vedere le immagini, tanto loro ascoltano e guardano quello che vogliono loro a questo punto. Ripeto, se sono io pazzo, scrivetemelo. Allora, nella rissa finale si vede benissimo, ci sono anche le immagini di tutti i tifosi con i telefonini, basta andare in rete, si vede benissimo che è Andanovic che fa così a un certo punto su Quadrado. Quadrado risponde, Quadrado è diventato violento, tre giornate. I calci di Danfri sono spariti. Quadrado salta le prossime tre giornate e quindi vuol dire gara di torno di Coppa Italia e se andiamo in finale pure la finale. Frega niente a nessuno, tutto a posto, così tu sei diventato un razzista e un violento. Ci sono le immagini che parlano chiaro, ci sono tutti i testimoni di cui nessuno ha sentito Cori, ci sono le immagini che parlano chiaro su quale è stata la rissa finale. Quindi questo è il trionfo delle parole contro i fatti. La Juve fa dei fatti, collabora e manco si prende la sospensiva che hanno preso per esempio le curve romane. Mourinho ha detto basta, 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 è un mio amico Stankovic, tutto a posto. Tu collabori, vai a pescare con le telecamere le persone ed evidentemente se trovi uno che ha fatto il coro, ragazzi, il coro, poi ragazzi è sbagliata anche l'esegesi da parola, cioè coro vuol dire più persone. Se uno dice scimmia, se uno fa bubù, cinque fanno bubù, sono cinque che fanno bubù e li punisci giustamente. Qua è diventato il coro di 2500 persone. O siamo tutti matti da internare, o c'è qualcosa che non funziona, vogliamo avere delle altre dimostrazioni, altro schiaffo in faccia alla Juve anche in queste circostanze. Ce ne saranno anche altre dimostrazioni, tanto noi prendiamo tutto, prendiamo tutto, e quindi siamo qua a parlare, a urlare, a discutere, a fare i fatti stravolti, e quindi un domani diventerà quella partita tu che avevi lo stadio razzista e tu che avevi i giocatori violenti. Perfetto, ci siete riusciti anche questa volta. Bravi, bene, bis, devo dire che dal punto di vista delle campagne mediatiche a supporto siete i numeri uno. Noi purtroppo siamo in fondo della lista. Su quello altro che migliorare, bisognerebbe molto lavorare, perché noi purtroppo riusciamo a porci come fanno gli altri. E tante volte voi mi avete detto no, non bisogna scendere a livello. Beccatevi l'ulteriore dimostrazione. Perché io la voce l'ho persa, non soltanto allo stadio, ma quattro ore in tv ieri, per difendere le nostre ragioni evidenti. Ma non serve a niente se è uno a farlo. E se si fa una volta sola. Non serve a niente. Mi dispiace, bisogna mettersi in testa che bisogna andare a livello. Perché come ti giri ti tirano schiaffi da tutte le parti. E soprattutto più tu collabori e fai i fatti per perseguire la legalità nel tuo stadio, tra l'altro di proprietà a differenza degli altri faticenti, e più ti puniscono. Perché nessuno ha sentito niente, compreso quelli che erano a bordo campo, compresi i direttori di gara, compresi i protagonisti delle due panchine. E nella lista finale, ripeto, è evidente, è Andanovic il primo ad alzare il livello e Quadrado gli va dietro. Ma è diventata tutta colpa di Quadrado. E' lui un violento. Benissimo. Iscrivetevi al canale, anche se sono pazzo. Like al video, commenti, ditemi se sono pazzo. Campanella. Sarò anche pazzo, ma io gli occhi ce li ho ancora buoni e anche le orecchie. Grazie. Grazie. Grazie.